Un grande ciao a tutti voi, come sempre un grande abbraccio e un caloroso saluto a tutti i miei cari amici ascoltatori di Italiano in Podcast. Un saluto dal vostro sindaco, ma soprattutto dal vostro amico Paolo. È passata un'altra settimana, un'altra settimana senza tuffi per il vostro sindaco purtroppo, ma è andata bene, è stata una buona settimana con molto lavoro, con tanti incontri con i miei amici studenti di Italiano. Ho cercato di aiutarli come sempre con un po' di buona conversazione, come provo ad aiutare voi con questo esercizio di ascolto e di comprensione. È stata una settimana di festa nel discorso, come vi ho raccontato. C'è stato il compleanno di mia madre, questo compleanno speciale, ma poi ho scoperto che in realtà questa settimana è stata piena di compleanni speciali. Ma comunque, dopo una settimana sono di nuovo qui per aiutarvi ancora e soprattutto per darvi benvenuti a questo episodio numero 775 di domenica 22 settembre 2024. È sera, non è troppo tardi. È stata una buona giornata, una giornata rilassante, piacevole, un po' di lavoro, una bella chiacchierata con la mia bella Jay e un po' di, come dire, fatica per risolvere un piccolo problema che mi ha fatto impazzire, ma adesso sono più tranquillo e quindi sono pronto, ero pronto per sedermi davanti al mio microfono e raccontarvi qualcosa di questi giorni passati. Prima di tutto, per gli amici che mi osservano, che mi guardano con il video, ho deciso oggi di indossare una maglietta un po' più chiara perché qualcuno mi ha detto che mi metto sempre magliette troppo scure, quindi sembra una cosa un po' triste. In realtà non sono troppo scure, però oggi ho deciso di mettere qualcosa di più chiaro e però c'è sempre del blu perché il blu è il mio colore preferito, quindi il blu, l'azzurro, insomma questo tipo di colori mi piacciono più di altri, quindi c'è sempre qualcosa di blu, quasi sempre qualcosa di blu. Ma in realtà volevo solo un po' cambiare perché forse con una maglietta più chiara mi vedete meglio nei video, visto che la parete insomma è un pochino più scura. Ma comunque questo è un dettaglio solo per chi mi osserva nei video, lo ricordo a tutti quelli che mi seguono da sempre solo con l'audio su Spotify o su altre piattaforme. Se volete insomma potete trovare il video sia su Spotify che anche su YouTube. Un po' in ritardo, pubblico il podcast su YouTube un po' dopo la pubblicazione su Spotify, ma comunque se volete anche vedermi oltre che sentirmi potete farlo da qualche settimana, da molte settimane in realtà. Ormai c'è una lunga lista di episodi in cui potete vedermi anche in video. E a proposito di questo vi ricordo sempre, se potete, di sottoscrivere il canale sia su YouTube che su Spotify, insomma cominciate a seguirmi per aumentare questo numero importante di followers che è un po' la vita di podcast e anche di canali YouTube. E se vi piace il podcast mettete un like, insomma fatemi sentire la vostra opinione, lasciatemi un commento anche su Spotify, potete farlo. In ogni episodio c'è la possibilità di scrivere un vostro commento, un saluto, quello che volete. E anche di partecipare i piccoli sondaggi che cerco di creare in ogni episodio. Quindi fatemi sentire la vostra presenza, partecipate numerosi, insomma, per far crescere, come ho detto, questo progetto, questo grande progetto di iSpeak italiano e di italiano in podcast. Un po' di pubblicità per me e per quello che faccio. Ma comunque, come vi dicevo, è stata una settimana buona, però ancora senza tuffi e il tempo purtroppo è ancora... non è bello, questo è il punto. E in alcune regioni purtroppo è anche catastrofico, nel senso che ancora una volta in questa settimana, più di una volta, ci sono stati eventi un po' estremi, soprattutto in Emilia-Romagna, ancora. Anche l'anno scorso c'erano stati molti problemi lì, quest'anno si è ripetuta questa situazione, si è ripetuta questa situazione e purtroppo i amici dell'Emilia-Romagna in molte zone di questa regione hanno avuto, hanno subito molti danni e c'è uno stato di emergenza, c'è ancora un'allerta meteo, cioè il Servizio Meteorologico Nazionale ha dato un'allerta, un'allarme, in molte regioni in questi giorni e anche in queste ore. Aspettiamo ancora forti temporali, forte tempeste, insomma, forti tempeste. Speriamo che non ci siano danni, ma certamente la situazione non è perfetta. In questo momento non siamo il paese del sole e del bel tempo, questa è l'immagine che c'è dell'Italia spesso, un posto in cui fa sempre caldo, c'è sempre il sole, il tempo è sempre bello e noi italiani siamo sempre su una spiaggia a prendere il sole con gli occhiali o in costume. Insomma, in questo momento l'Italia purtroppo non è così. Spero che presto sia così perché io penso ancora che ci saranno delle belle giornate, tornerà il sole, gli amici che sono in difficoltà con il maltempo torneranno a trovare un po' di serenità e a cercare di sistemare i danni del maltempo e io tornerò sulla mia scogliera a fare qualche tuffo. Ma non solo, perché è passata un'altra settimana, io sono un po' contento, ma non bisogna essere contenti del tempo che passa, bisogna godersi il tempo che abbiamo e che passa, ma mancano solo due settimane, ormai meno in realtà di due settimane al mio viaggio in Sicilia, a Catania e a Teormina, in cui rivedrò la mia bella Jay dal vivo, in carne e ossa. Quindi sono un po' contento che questi giorni siano passati velocemente e che presto insomma avrò una bella pausa e spero di godermi anche il mare della Sicilia, quindi spero davvero che presto il bel tempo ritorni, ma soprattutto anche per tutte queste zone dell'Italia che soffrono, soffrono il maltempo, ci sono danni, molti danni purtroppo, quindi per tutti il sole è la cosa migliore ovviamente e spero che torni presto a brillare e a regalarci ancora un po' di caldo e perché no, anche un po' di mare dove è possibile. La settimana è passata con molti incontri, l'ho già detto, ho visto tanti amici, è stata una settimana intensa in realtà. Settembre è un po' come gennaio, a gennaio molte persone ricominciano in un modo più intenso, con più entusiasmo, con più voglia, ricominciano lo studio dell'italiano e succede un po' la stessa cosa a settembre, dopo l'estate si torna alla normalità, le vacanze spesso sono finite per molti, si ritorna alla vita quotidiana più regolare e quindi molte persone ritornano anche a un programma di studio più regolare e quindi ho avuto la fortuna l'occasione di rivedere molte persone che avevano fatto una pausa o qualcuno che addirittura è un nuovo amico, a me fa sempre piacere. Vi ricordo anche questo se volete, oggi faccio molta pubblicità, se volete fare quattro chiacchiere con me per allenare il vostro italiano potete andare sul mio sito e cercare un tempo, un'ora giusta, un giorno giusto e prenotare insomma un incontro insieme a me. Faccio pubblicità perché ovviamente voglio continuare questa attività e giustamente devo fare pubblicità, non sono bravo in questo ma devo farlo più spesso, soprattutto con il progetto di Icepeak Italiano è necessario insomma cercare di far conoscere a più persone possibili questo mio progetto dicevo quindi buona settimana, sono molto soddisfatto, ho fatto un buon lavoro, ho fatto tante cose e ho anche pubblicato due nuovi articoli sul mio blog, ho ricominciato a scrivere, sono contento ho degli articoli nuovi, ho anche rivisto vecchi articoli che erano molto buoni, come ho già detto li ho aggiornati con esercizi e anche altre cose, quindi vi invito a dare un'occhiata al blog perché se volete dei testi di un giusto livello e se volete degli esercizi adatti a voi insomma credo che ci sia molto materiale per tutti voi, quindi ancora pubblicità andate sul blog, leggete i miei nuovi articoli sono articoli, tutti e due sono un omaggio a due grandi artiste della nostra bella Italia, due artiste molto popolari, molto famose, ne parleremo un po' dopo e sono sicuro che siano due articoli interessanti per conoscere un po' meglio la nostra cultura e alcune cose che per noi insomma sono davvero importanti. Ho ricominciato anche ad allenarmi in modo più regolare, ho in mente di migliorare i miei tempi sul 10 chilometri e sulla mezza maratona, forse non correrò, anzi direi che sicuramente non correrò una maratona alla fine dell'anno, c'era questa possibilità, non era un'idea certa ma credo che ormai non ci sia molto tempo per prepararmi, non ci sono neanche troppe maratone nel periodo invernale, quindi ho deciso di dedicarmi un po' a migliorare i miei tempi sui 10 chilometri sulla mezza maratona, forse correrò una mezza maratona alla fine dell'anno, non lo so ma la cosa importante è che ho ricominciato ad allenarmi in modo più regolare, più intenso, con più voglia e soprattutto le mie gambe funzionano meglio. È incredibile come sia facile perdere la forma fisica anche dopo una prova così dura come una maratona, insomma, se ci fermiamo, io mi sono un po' fermato anche per qualche problema piccolo, problema fisico, ma dopo la pausa è adesso un po' dura riprendere non potrei mai correre una maratona adesso, forse neanche una mezza maratona, c'è bisogno di allenamento e c'è bisogno di regolarità, di costanza, continuità, tutte parole buone, in ogni aspetto delle nostre attività sono le parole chiave, una parola chiave è una parola fondamentale, importante usiamo questa espressione, la parola chiave, che ci aiuta a ottenere dei risultati quindi la continuità, la costanza, l'impegno costante, insomma, sono tutti aspetti necessari se vogliamo fare delle buone cose, anche per il podcast, quindi devo ricominciare con una regolarità migliore, lo so, ma comunque è stato un piacere risentire queste sensazioni della corsa più facile, più divertente e quindi tutto questo aiuta a riprendere un ritmo più regolare perché quando c'è questo ritorno di sensazioni positive diventa un circolo virtuoso un circolo virtuoso è una serie di azioni buone che si possono fare per migliorare qualcosa un circolo vizioso è l'esatto contrario il circolo vizioso ci porta verso il basso e il circolo virtuoso verso l'alto circolo perché è come una spirale, è come un'azione che richiama un'altra azione che richiama un'altra azione, insomma, sono azioni che ci portano in una direzione quando è virtuosa verso l'alto, insomma verso le cose buone, quando è viziosa verso il basso verso un atteggiamento sbagliato o risultati sbagliati comunque settimana positiva settimana positiva è per molti versi a parte il maltempo anche in Italia vediamo un po' che cosa è successo sui nostri giornali sui nostri giornali si parla di maltempo certamente ma anche di cose buone, piacevoli, giuste cominciamo da un fatto un po' folcloristico ma che tutti voi forse conoscete già un po' questa settimana il 19 settembre si è ripetuto questo atteso miracolo di San Gennaro il sangue di San Gennaro conservato nella cattedrale di Napoli si scioglie, come si dice, diventa di nuovo liquido quando c'è questa cerimonia tre volte all'anno la prima domenica di maggio il 19 settembre e poi mi pare a dicembre sì il 16 dicembre quindi il 19 settembre quest'anno per fortuna il sangue di San Gennaro si è sciolto è molto importante perché se non si scioglie questo porta sfortuna noi italiani siamo molto superstiziosi si è sciolto addirittura prima di questa celebrazione perché c'è ovviamente un rito un rito che si fa nella cattedrale per lo scioglimento del sangue quindi una buona notizia per Napoli e chissà forse per tutta l'Italia un buon segno ma un'altra buona notizia del 19 settembre è quella che arriva da uno sport che noi italiani conosciamo un po' perché spesso ci siamo trovati a combattere, a lottare contro gli amici neozelandesi gli amici svizzeri, gli amici americani per questa importante manifestazione l'America's Cup e negli ultimi 30 anni più o meno ci sono state spesso delle soddisfazioni la nostra barca più forte si chiama Luna Rossa la buona notizia è che si è qualificata per la finale della Louis Vuitton Cup che è la manifestazione che si deve vincere per partecipare poi all'America's Cup spero di averlo spiegato bene ma insomma l'idea è questa Luna Rossa è nella finale della Louis Vuitton Cup finalmente dopo un po' di tempo e questo dà la possibilità di andare poi a partecipare all'America's Cup questo evento così famoso così importante che c'è ogni due anni mi pare sì ogni due anni comunque una buona notizia dallo sport ma purtroppo anche una notizia un po' anzi molto non un po' molto triste dallo sport ci ha lasciati un po' troppo presto un grandissimo campione del calcio italiano Totò Schillaci è stato negli anni 90 uno dei più grandi campioni del nostro calcio molto 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 amato da tantissimi italiani specialmente nel sud perché Totò era palermitano infatti Palermo ha reso un grande omaggio a questo grande giocatore di calcio è un uomo molto umile un campione molto umile un campione che ha sudato molto nella sua carriera per ottenere i risultati che ha ottenuto è stato un grande giocatore della Juventus e poi anche della nazionale italiana ha partecipato ai mondiali di Italia 90 insomma un grande campione con grandi risultati che ha lavorato tanto nella sua vita per ottenere questi risultati un esempio di umiltà e di impegno come dicevamo prima continuità, costanza queste sono sicuramente caratteristiche del nostro Totò quindi c'è stato il saluto due giorni dopo mi pare il 21 settembre c'è stato il suo funerale e la città di Palermo ha reso omaggio al suo campione in modo molto appassionato purtroppo Totò ci ha lasciati un po' troppo presto credo che avesse circa 60 anni un po' più di 60 anni ma sicuramente il suo ricordo vivrà ancora a lungo anzi vivrà probabilmente per sempre nella storia del calcio italiano ma questa settimana abbiamo festeggiato anche la nostra diva forse la nostra diva più famosa nel mondo Sofia Loren ha compiuto 90 anni proprio come mia madre questa settimana ci sono stati molti artisti importanti che hanno compiuto 90 anni Sofia Loren è una di loro ma forse è la diva più famosa quella che tutti conoscete in tutto il mondo la grande Sofia ha festeggiato questo importante traguardo proprio come mia madre e tutto il mondo ha reso omaggio a lei ai suoi film alla sua bravura alla sua simpatia che dire alle sue qualità tutti amano Sofia Loren in tutto il mondo e lei è un'icona un simbolo dell'Italia in tutto il mondo assolutamente una delle facce una dei volti che più ci rappresenta in giro per il mondo e anche a Espic Italiano ha reso omaggio a Sofia Loren e ha pubblicato in realtà ha ripubblicato in modo più approfondito con una qualità migliore un articolo del passato che riguarda La Ciociara La Ciociara è uno dei film più famosi di Sofia Loren almeno per noi italiani lei ha vinto l'Oscar nel 1962 per questo film il film è tratto da un romanzo di Moravia il regista e il grande maestro Vittorio De Sica uno dei capolavori del cinema italiano anche se purtroppo racconta è stata una storia terribile una storia triste una storia di guerra l'interpretazione di Sofia Loren è stata davvero molto importante in questo film ed è uno dei film più iconici del nostro cinema quindi se siete curiosi andate sul mio blog e potete leggere un articolo su questo film come potete vedere per gli amici che mi seguono in video ci sono varie sezioni una con l'articolo una con esercizi di comprensione una con esercizi sulle preposizioni qualche piccolo gioco e anche dei contenuti che riguardano l'articolo in questo caso alcuni video che riguardano Sofia Loren alcune sue interviste ma non è l'unica Sofia Loren non è stata l'unica a festeggiare 90 anni un'altra grande artista italiana ha festeggiato 90 anni oggi proprio oggi ed è si tratta di Ornella Vanoni Ornella Vanoni è una grandissima cantante anche lei un'icona della musica italiana famosissima in Italia e anche fuori dall'Italia in Europa soprattutto ha una carriera lunghissima ha avuto una carriera lunghissima anche lei quindi oggi festeggia i suoi 90 anni forse in futuro scriverò anche un articolo su di lei e tutti hanno reso omaggio anche a lei nel mondo della musica e non solo Ornella Vanoni è ancora oggi un personaggio molto amato molto popolare vi invito ad ascoltare la sua musica vi invito a sentire le sue canzoni più famose e certamente sono sicuro che vi piacerà ma tante canzoni tante importanti canzoni che ha cantato la grande Ornella Vanoni sono state scritte da un altro grandissimo artista italiano uno dei nomi più importanti della nostra musica un mostro sacro proprio come Ornella Vanoni il suo nome è Gino Paoli Gino Paoli è tra i massimi cantautori della musica italiana ha scritto musica per lui e per tanti altri artisti famosi quindi domani il 23 settembre invece festeggeremo i 90 anni di Gino Paoli insomma è stata una settimana di festeggiamenti di 90 anni quindi moltissime persone festeggiano 90 anni ogni giorno ovviamente ma in questo caso i nostri giornali sono pieni da giorni di importantissimi artisti famosi che hanno raggiunto questa età che anche la mia mamma ha raggiunto lunedì scorso e ovviamente mi fa piacere che questi grandi personaggi abbiano qualcosa in comune con lei questa domenica invece io ho avuto un po' di felicità e delusione perché oggi pomeriggio mi sono goduto no all'ora di pranzo non il pomeriggio perché hanno corso a luna del pomeriggio in Emilia Romagna è il gran premio dell'Emilia Romagna che si è corso sul circuito di Misano proprio come due settimane fa c'è stato il gran premio di San Marino sempre sul circuito di Misano Adriatico ci sono stati questi due gran premi MotoGP in Italia perché è stato cancellato un MotoGP in un altro paese non ricordo quale e quindi l'autodromo di Misano Adriatico ha ospitato due MotoGP di seguito a distanza di due settimane purtroppo il nostro campione del mondo Bagnaia è caduto con la sua Ducati quando è a terzo ma ha vinto un altro campione italiano Enea Bastianini su una Ducati ufficiale ha vinto davanti a Jorge Martin e Mark Marquez quindi al primo posto è arrivato un italiano su una moto italiana e tutti siamo contenti ma la gara è stata incredibilmente emozionante questi piloti sono straordinari hanno un coraggio straordinario e fanno cose incredibili quindi mi sono divertito tanto e c'è stata davvero tanta emozione una delle gare più belle che io abbia visto quest'anno sapete che il vostro sindaco ha una passione per le moto le corse di moto anche se in realtà non ha mai guidato una moto o almeno da moltissimi anni non lo fa e non ha mai posseduto una moto ma queste gare davvero mi piacciono tantissimo mi emozionano tantissimo scusate la diretta un ultimo commento su un articolo che ho scritto sempre su una grande artista italiana che ha festeggiato il compleanno ma che purtroppo non c'è più il 19 settembre infatti il 20 settembre scusate proprio come Sofia Loren c'è stato l'anniversario della nascita della grande Mia Martini che purtroppo ci ha lasciati troppo presto anche lei molti anni fa è scomparsa negli anni 90 Mia Martini è stata una delle più grandi artiste musicali italiane anche lei un mostro sacro della nostra musica che purtroppo ci ha come ho detto lasciati ancora molto giovane ha solo i 47 anni il 14 maggio 1995 Mia Martini è stata trovata morta nella sua casa per ragioni ancora non specifiche cioè non precise non esatte ma insomma il suo cuore si è fermato nel 1995 ma ci ha lasciato una grandissima quantità di musica incredibile ho scritto questo articolo dedicato a lei vi invito a leggerlo sempre sul mio blog c'è l'articolo ci sono gli esercizi ci sono contenuti vi invito ad ascoltare la sua musica perché sono certo che anche questa musica mi piacerà tantissimo questa è una sua frase celebre cominciamo con lei con le frasi celebri di oggi mi ha detto questa frase celebre mi piacciono le cose reali le cose vere odio il conformismo e tutto quello che può essere ipocrisia mi piace parlare con la gente delle cose esattamente come stanno e questo era il suo stile Mimi è il suo nome diciamo vero nella sua vita la chiamavano Mimi gli amici e i familiari probabilmente ma Mia Martini era il suo nome d'arte il nome d'arte che ha scelto moltissimi anni fa quindi cominciamo con le frasi celebri con l'omaggio a questa grande artista italiana che vi invito a scoprire di più ma le altre due frasi celebri di oggi sono dedicate alla nostra diva alla nostra mitica Sofia sono due frasi importanti una più simpatica una più profonda Sofia Loren ha detto tutto quel che vedete lo devo agli spaghetti ovviamente si riferiva alla sua bellezza la sua grande bellezza e ha voluto dire che la sua vita era molto semplice in realtà e la sua bellezza probabilmente era merito e è merito anche oggi degli spaghetti e della sua dieta mediterranea italiana diciamo quindi una frase un po' spiritosa della grande Loren ma l'altra che mi è piaciuta molto è invece un po' più profonda lei ha detto la grande Sofia ha detto gli errori sono parte delle tasse che si pagano per una vita piena e questo mi piace molto se vogliamo una vita piena dobbiamo anche rassegnarci all'idea di commettere degli errori certamente ne avrà commessi anche lei ma il risultato è stato assolutamente ottimo la sua carriera la sua vita è stata certamente piena e insomma è diventata una diva internazionale quindi omaggio a queste due donne ma anche a Ornella Vannoni a Gino Paoli e a Totò come ho già detto finisce qui questo nostro episodio numero 775 vi invito ad ascoltarmi sempre vi invito ad avere pazienza per le mie pause vi ringrazio per ascoltarmi per seguirmi e continuate a farlo come ho detto per il momento però è tutto qui ci sentiamo presto il vostro sindaco e amico Paolo va a dormire fra pochissimo quindi come sempre Paolo vi saluta e ciao a tutti